In occasione del MotoGP del Mugello, una trentina di Ferrari provenienti da Pesaro hanno aderito all'iniziativa di 7x4, non lasciamolo solo, a sostegno di Valentino Rossi e si sono ragunate a Tavuglia, nella città natale del dottore, per sostenere il loro campione. Certamente è un omaggio che dobbiamo sicuramente a Valentino, una persona che ha vinto 9 campionati del mondo e che non deve dimostrare più niente a nessuno, io penso che sia da elegiare, anche se in questo momento magari per problemi un pochino, diciamo, motoristici, non è alla ribalta e noi siamo qui per sostenerlo. È stata una cosa fantastica, veramente fantastica questa, è stata eccezionale questo, invoca il lupo, crepe il lupo. Una lunga fila di rosse per rossi ha sfilato lungo le strade per far sentire la propria vicinanza al grande campione, tra i tanti anche chi correva con lui in minimoto. Sono stati tempi davvero bellissimi, con dei ricordi grandiosi, sicuramente poi dopo, sai, le strade si sono un pochino divise però sono rimasti tanti bei ricordi, insomma, da sfogliare tutte le volte. Il mio in bocca al lupo è quello di vincere, né più né meno, quindi staremo un attimo attaccati al televisore e vediamo se questi problemi siano stati risolti almeno in parte. Anche se ancora i buoni risultati stentano ad arrivare, i fan continuano a sostenerlo con la speranza che il periodo buio finisca il prima possibile.